Questa regata fatta dall'Istituto Nautico Testimone, che nonostante i cambi di programma degli istituti nautici, nonostante tutto quello che ci stanno mettendo in Italia per cambiare le reggi sul mare, passarlo sempre come persone di serie B, l'Istituto Nautico di Sorrento, l'Istituto Nautico Tecnico Nino Bixio riesce a mantenere ancora queste grosse tradizioni marinarie che ci contraddistingono. Grazie!